Benvenuti nel nostro canale YouTube. Prima di iniziare il video, vi ricordiamo di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella per non perdervi nessun prossimo aggiornamento. Quest'estate, vi portiamo in un luogo magico e affascinante, la Sardegna. Un'isola che offre rifugio e pace, dove la rinomata conduttrice televisiva italiana, Maria De Filippi, sta trascorrendo il suo periodo estivo. Questa è la sua prima estate senza il marito, Maurizio Costanzo, tragicamente scomparso il 24 febbraio scorso. Maria è accompagnata dal suo adorabile figlio Gabriele, creando un'atmosfera di complicità e amore familiare. I due si trovano in Sardegna per le ultime puntate del popolare show Temptation Island, ma riescono comunque a trovare del tempo libero per godersi le bellezze dell'isola, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi. E non è finita qui. L'autentica vacanza è prevista per agosto, nella loro villa ad Ansedonia, dove si concederanno un meritato riposo. La Sardegna, però, offre loro un gustoso antipasto di momenti speciali. Gabriele, chiaramente legato a sua madre, dichiara con orgoglio, mia mamma è la cosa più importante per me, è il mio faro. E si vede bene che questo amore è reciproco, soprattutto perché Maria ha condiviso con lui la sua passione per gli animali, come dimostrano le foto in cui si divertono a giocare a frisbee con Tommy, il fedele amico a quattro zampe di Gabriele. Ma i momenti felici condivisi non si fermano qui. Tra chiacchiere, sdraio e cocktail, trascorrono pomeriggi perfetti insieme. Nonostante sia impegnata con le registrazioni del programma, Maria non rinuncia alle sue attività preferite, ama fare sport, andare a cavallo e dimostra una notevole abilità nel padel. Dopo un intenso pomeriggio, Gabriele è tornato a Roma, dove ricopre un ruolo importante come responsabile di Wedi TV, la stazione televisiva della casa di produzione Fascino. Ma l'appuntamento tra madre e figlio è già fissato per i primi di agosto, nella villa di Ansedonia, dove si riuniranno per la consueta vacanza estiva. Sarà una vacanza speciale, la prima senza la presenza di Maurizio Costanzo, ma Maria e Gabriele, sapranno affrontarla circondati dall'affetto degli amici più cari e dall'indissolubile legame che li unisce. Vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a lasciare un commento alla fine del video. Non dimenticate di seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti. A presto con un nuovo video, qui nel nostro incantevole canale. Grazie. Grazie.